salve amici di youtube e benvenuti in questo ottavo episodio di della dns tech pack qui con me c'è gabriele prg ok e oggi faremo un sacco di cose nuove ragazzi faremo tanti macchinari ma tanti 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 cioè speriamo di farne tanti perché in questi episodi diciamo siamo abbiamo avuto delle spighe tremende contro quel cacchio di blaze e quindi tenteremo di fare tutto quanto comunque cosa dobbiamo fare allora io ho già craftato il query con il landmark ma il query ormai lo conoscono tutti è strafamosissimo e quindi non ve l'abbiamo fatto vedere e abbiamo iniziato a craftare questi macchinari qui abbiamo cucinato i brick che abbiamo incominciato a cucinare i brick che si fanno con la clay quindi la clay nel forno nella furnace fanno i brick e adesso vi faremo poi vedere cosa facciamo in quelli per fare la clay comunque abbiamo fatto una cosa un pochettino più semplificata abbiamo usato la palla di chi si chiama philosopher stone philosopher stone che si fa se mi ricordo adesso non voglio adesso di volta me ne dimentico sempre glowstone redstone di canidosodium al centro ecco a posto comunque così si dobbiamo dobbiamo usare un decanisodium gem mettere soltanto redstone glowstone e il decanisodium si può o craftare o raccogliere o raccogliere comunque ragazzi se avete culo lo trovate vi attaccate questo motore qua si chiama steam dynamo e va a carbone solo che il carbone dura poco quindi noi stiamo facendo la clay per fare una fornace e ci fa un carbone tramite il carbone molto più producente esatto perché in questa mod adesso il pulverizer non va più con la corrente della build craft ma bensì con l'rf che la redstone force qualcosa resto incontro vabbè stiamo migliorando il macchinario in poche parole comunque in pratica adesso facciamo quella cacchio di fornace ok se mi puoi dire qual è il numero io il brick ok vai nella crafting table ti dico il numero 45 1 2.7 a 45 1 2.7 ok eccola qua dobbiamo mettere 4 di figlio di la sabbia a dobbiamo mettere quattro copper laterali cioè dobbiamo metterli a forma di croce però tranne quello centrale e poi se è solo uno dobbiamo farne però se no esagero solito ecco ed ecco qua no no ma ne dobbiamo fare parecchie quindi vai tranquillo perfetto ok e ne servono 9 18 9 18 26 ok allora dobbiamo prenderne altra un po di sabbia altra o se no dammi anche il copper il copper c'è il scusa il brick scusa il brick e mi sono confuso allora ti do sabbia e il brick ok sbam sbam ma sbam sbam ok hai detto precisamente 26 ok Adesso aspetta il copper che cucini Perché ne abbiamo fatto Ancora con sto copper Eh brick L'ho già preso io Vieni Quanto siamo? Precisamente siamo a 14 Inizia a darmeli Che inizio a montarli così Almeno non sto fermo senza fare nulla Ok eccoli qua Adesso sono 15 Perfetto Vado a prendere un altro po' di brick Perché meno male me lo sono ricordato Ho contato fino a 3 prima Allora Se volete vedere come si monta Guardate la mia prospettiva Esatto Perché ve lo dico sempre Andare a guardare le prospettive Altrui Altrui Cioè di Gabriele Perché è giusto Perché così almeno capite anche come si fanno Perché voi dite Ma Bayon Community non ci sta facendo vedere come si crafta Voi E allora cosa dite? Ma Gabriele lo fa vedere Quindi vado da Gabriele a vederlo Fate anche prima Vi risolvete ogni dilemma Ma tu li hai già messi giusto? Si alcuni li ho già messi Dove sono? Ah qua all'angolo Ah eccoli Quindi se vedete ho fatto le pareti 3x3 Ho fatto un buco di 3x3 Poi le pareti Vanno fatte così Questo va messo così In pratica dovete riempire tutto Tranne questo blocco centrale Deve rimanere in playa su un 3x3x3 Solo il blocco centrale Vuoto in pratica Poi glielo faremo meglio Sarebbe un casino Ne abbiamo fatto 15 Quindi dobbiamo farne No 16 adesso 16? Sì ne ho fatto un altro io Opla Opa gamma stai Quindi solo uno 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 16 Quindi solo uno e basta Dobbiamo arrivare a 26 Eh io ne ho fatto solo uno Per adesso Inizia a darmelo Vomita Ok No perché non ho capito quanti ne mancano Ecco Allora siamo a 17 Dobbiamo arrivare a 26 Secondo te quanti ne mancano? 11 Sono un idiota L'importante è che te lo dici da solo E la matematica è il problema Capito? Il mio problema è la matematica E non solo quello Solo quello Allora Perché io stavo contando i miei Non i tuoi Per quello Quindi non Comunque li abbiamo messi sbagliati Non è il contrario È vero E' un'trimenti Corre La matematica è la matematica Ma La matematica è la matematica La matematica è la matematica E' un'altra Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 6, 15, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 8, Io non sto capendo però se stai guando sopra o sotto? No, sullo Steam Dynamo, sto aspettando che la linea centrale rossa si scarichi. Infatti non gli sto più mettendo carbone perché adesso lo devo rompere. E quindi sto aspettando che si scarichi per non sfregare quell'energia. Ok. Ci serve a qualcun altro macchinario? Se hai voglia di craftarlo nel frattempo... 20-42-1 Di nuovo quello? 20-42-2.1 E' diverso? Ah, ok. Vabbè, ci provo. Ah, questo qui devo prendere un Silver Eingot. Il Silver Eingot, credo che ce l'abbiamo qua. Dov'è il Silver Eingot? Il Silver c'è la polvere qua che ha polverizzato, la devi cuocere nella fornace. Ok, no... Eh sì, e la polvere è quella, il Pulverizer Silver, vero? Sì. La devo cucinare? Nella fornace. Ok. Ci devo mettere carbone. Per adesso. Il carbone. Se no, se aspetti due minuti... Io qua si è scaricata... E la posso... Come si dice? Ti recupero qua. Solitamente così. Vai, la cucino. Tanto tutta non credo che ti serva per qualcos'altro, no? No. Cioè, non è che devi per caso la polverina ti serve per un macchinario. No. Ma per adesso no. Ok. Allora, questa la mettiamo. Ah, già che non si attaccano questi, porca vacca. No, niente, non si può fare. Dobbiamo fare due motori, quindi, niente. Come non detto. Questo qua. Ok. Invar Gear si fa con un ferro e un Invar Ingot. Gli Invar Ingot... Credo che ce li abbiamo, se non sbaglio. Invar Ingot? Eh. Ci sono, ci sono. Trovarli, problema. Eh... Magari sta qua a cuocere. Tin. Invar, 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 Invar. No, ma l'Invar si crea, eh. Mi sembra che il ferro è Tin. Prova a vedere se ti fa la Dust. O il Pulverizer. Ah, mi dice che si fa o con 9 Invar Nugget. O con un Invar Block. O con la Invar Blend. Ecco, come si fa la Invar Blend? Con... Con... Iron... Però li cambia sempre, però. Che pizza. Allora, Pulver Nickel. Poi... Iron Dust. E... Iron Dust. No, Pulverizer... Aspetta. Che cazzo sto dicendo? Perché cambiano in... Cambiano ogni volta. E mi danno... Allora, io sto prendo quello azzurro. Allora, pure Nickel. Iron Powder. Povzer. Vabbè, quello. E... Pulverizer... 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 Come cavolo si chiama? Eh, Pov2. No, Iron. Pulverizer Iron. Ah, Pulverizer Iron non ce l'abbiamo. Poi. Poi ci serve. Pure Nickel ce l'abbiamo? Il? Pure Nickel. Eh, non lo so. Bisogna vedere. O se no, possiamo usare anche due... Ehm... Due Iron... Minchia. Perché ti cambi? Pulverizer Iron... È... Ah, due di quelli... È un Pulverizer Ferrous. Ferrousos ce l'ho già io. Ok, dai. Qua. Qua. Hop. Ok. Uno, due... Dovrebbe essere così. Ho sbagliato perché ho pensato la sbagliata. Ok, ci fa 3D in War Blend. Se non sbaglio. In War Blend dobbiamo farne un bel po' però. Questa Pulverizer Ferrous, ce ne abbiamo altra o solo questa? Per adesso è solo quella. E non si può. Vedi se il lingotto si può duplicare? No. E allora niente. Bisogna ricrearla. Fammi vedere se ce l'abbiamo. No. No. Come si fa? Allora. Allora. Iron e Nickel, oppure Ferrousos Metal, oppure Nickel, oppure Pulverizer Ferrousos Metal. Eh, sono difficili da capire quando... Ah, guarda. Basta che aspettiamo di tritare il ferro e il Pulverizer Ferrousos Metal viene dopo un po'. Oppure, basta prendere il Nickel. Vediamo se abbiamo Nickel. Nickel, 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 Nickel... No. Basta allora aspettare di polverizzare il ferro. E infatti è arrivato. Eccolo qua. Pulverosos Ferrousos Metal. Ce ne serve ancora? Guarda, devo fare allora tre Invar Ingot. Due... Devo prenderne otto... No, l'Invar Ingot ne devi fare... Ottimo... Undici. Undici, infatti. Quindi immaginati. Io ne ho solo tre. Ce ne manca... Porca troia. E allora sì. Allora, vediamo se c'è un ferro, 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 ferro. Ah, guarda, abbiamo però direttamente il Ferrousos pure. Musiamo fare così. Il cuoce direttamente questo. E ci fa? Lo mettiamo qua. Ferrousos Dust. Così ce lo duplica. Dai, su, su. Ok. Ah, te li stai già prendendo tu? Sì. Ma vedi, cazzo, spariscono. Che cazzo è? Ok. Ah, quindi. Ok. Che li sto cucinando. Pi, 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 pi. Non è esagerato, no? No, no, no. Non penso. Questi li mettiamo dentro, cioè, tanto credo che ci bastino qui. Ah, no, 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 mettili qua, su questi qua. Così sappiamo che i pulverizer sono già tutti qui. Vedi quanti ce ne ha fatti? Altre polverine non credo di averle. Perfetto. Ma, deposito alcuni oggetti che tanto non ne faccio nulla. Allora, la pallina, questi qui, cazzo, eh. Io ho la go bestia, come al solito. E sarà una giornata di cacchia. Una giornata di cacchia. Ok. Lo sto facendo. Allora, venite a guardare dentro la coven. La, ok. Questa che arrivo. Vedete che il Creosote Oil fra un po' si riempie? Sì. Faremo poi un modo di svuotamento automatico e con accumulo. Quindi faremo poi il... Un tank enorme che lo contiene tutto. Ok. Coldore, perfetto. Perfetto, 24. Qua sotto. Ok. Poi. Va. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Fatto. Perfetto. Perfetto. Quindi l'oro è più... E' più... Cioè, non si fa molto più velocemente, quindi. Eh? Cioè, se io metto un diamante nella... Nella... Quella per doppiare il... L'oro. Te ne fa solo due. Non è che te ne fa tanti. Capito? Com'è? Tipo fare il vetro. E' perché l'oro vale la metà di un diamante. Quindi per prima trovarlo in giro, il diamante. C'è l'oro. No. C'è un modo per raddoppiarlo ancora. Il Pulverizer Gold e cos'è? E' oro polverizzato. Lo metti nella fornace quella nuova che ho fatto e ti fai l'ingotti d'oro. Ok, la Redstone Furnace, giusto? Sì. Eh, ma dov'è che devo controllare il risultato? Il risultato? Eh, dov'è che me lo deposita? Nella cesta? Nella cesta. Hai visto? Ah, ok, era perché era a destra, non l'ho visto. Ok, allora, quindi... Allora. Così. Così. Perfetto. Ah. 9, 10, 11, 12, 13. Altri 10 me ne devo fare. Ah, non ce l'ho avuto al pane, pierlo. Mi toccherito 13, me ne mancano 10. Ok. Eccoli qua. Cosa faccio? Clicco il tasto destro su quelle di ferro. Tasto destro su tutte quelle di ferro. Con la maiuscola. Eh, l'ho fatto? Eh no, allora, senza maiuscola? No, non... Fai vedere, dammene uno. Dove sei? Se sei un pipistrello però anche tu. Ma... No, hai fatto quelli sbagliati! Ah, tu metto questo qui. Eh, sono un coglione io allora. Eh, 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 scusa. Che pirla! Eh, il 29, 75, 7 da fare. 29, 75, 7? E tu metto quello. Eh, sono un coglione. Vabbè. Vabbè, questi non li puoi fare più. No, questi li puoi utilizzare in altri modi. Mettili qua nella cesta. Facciamo l'eccesso di silver. Ma dici, ma come cazzo è che non funziona? Allora, io invece dovevo fare... I query... Ah, sì. Ok, ecco qua, l'abbiamo fatti. One. Two. Three. Allora. Fatto. Guarda. Perfetto, bravo. Nel frattempo, fai anche quelli di diamante, che sono... Eh... Aspetta. Concentrati quando mi dici il numero, eh, perché se non... 29, 75, 8. Ok. Ok. Allora, devo prendere anche il diamante. Però, il diamante ne abbiamo poco, però, eh. Eh, mettilo a duplicare. Tanto adesso faccio partire... Il, eh, il query. Ah, facciamo una cosa. Che, eh, già l'episodio è durato troppo. Salutiamo il nostro pubblico. E, eh, noi finiamo di craftare questo qua, che è il Fluid Transpuser. Finiamo di attivare il query. Lo attaccheremo al, ehm... All'energy, coso là, collettore di energia. Comunque, il duplicatore. E... Quindi è tutto. Sì, quindi noi andremo un attimo avanti. Nella prossima puntata vi faremo vedere cosa abbiamo fatto. E cose nuove. Quindi... Ciao a tutti! Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Quindi, ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao! Ciao a tutti!